buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video video come al solito particolare anzi particolare non nascondo che questo si tratti di un video tappabuchi questo perché sono stato molto impegnato aggiornamento di chat about un mio sito che ha avuto un corposo aggiornamento infatti l'ultimo video di cui ho parlato di chat about è questo qui dove era ancora in beta forse non era neanche pubblico il sito non so perché ho fatto il video in questo periodo ha avuto un corposo aggiornamento con la versione che potete vedere da qua 3.6 dove sono stato aggiunto un bordello di robe sono stato molto impegnato soprattutto per questa versione poi questi qua sono diciamo tutti bug fix e tutte novità che non sono riuscito a fare la prima volta poi vabbè l'app windows poi c'è un tutto robe di grafica adesso sembra più whatsapp infatti questo video tratta di whatsapp e qua ci sono altre cosettine tipo carine vedete però quella di default è slime bar vabbè se volete iscrivervi se voi andate nella sezione informazioni del mio canale lo trovate se no se non vi interessa volevo parlarvi di questo video di whatsapp allora sappiate che io sono contro whatsapp quando c'è stata la cosa della privacy io ero contento anche se non era una cosa grave è stata diciamo troppo sovravvalutata questa cosa della privacy si era pensata chissà cosa invece no non era gravissima ero contento perché appunto non ritengo whatsapp meriti questo successo credo che sia meglio telegram ma ovviamente e che whatsapp sia abbia questo successo solo perché sono tutti su whatsapp e a nessuno gli va di cambiare oggi è stato pubblicato l'aggiornamento sia su android sia ios la funzionalità di via la possibilità di inviare un messaggio come vedete da qua anche per telefono in cui appena il destinatario leggerà questo messaggio avrà lo vorrà visualizzare una sola volta e questo secondo me aumenterà di moltissimo le le varie truffe che vi sono su whatsapp le cose spam non sono per nulla contento di questa funzionalità però questo video non è per criticare ciò ma per un'altra cosa infatti se voi andate sul sito voa e whatsapp beta info il più famoso leaker di whatsapp non so se sia ufficiale ufficioso se è soltanto un leaker bravo che ha dato un link particolare in cui aggiunge la whatsapp sta per aggiungere la sua prima feature che telegram non ha finora da quando c'è stato il problema della privacy sta facendo tutti gli aggiornamenti a manetta però tutte cose che telegram già aveva da anni questa qua è la prima novità che telegram non ha la possibilità di editare le foto direttamente anche su desktop cosa che per mobile vi è però per desktop appunto no anche per whatsapp web quindi anche per chi non ha l'app per capirci per chi non ha whatsapp desktop può utilizzare questi editor che possiamo aggiungere stickers emoji testo da quanto vedo possiamo scegliere pure i vari font qua è per disegnare qua è per ritagliare vabbè non siete stupidi whatsapp web è stata un po abbandonata dai sviluppatori secondo me perché comunque ci sono le chiamate che sull'app desktop di whatsapp funzionano mentre sul sito whatsapp web no ho provato a installare la beta di whatsapp però io ho il telefono principale che è su ios su ios se la lista è piena non ci sono metodi terzi per avere la beta di whatsapp mentre su android ci sono altri metodi fatemi sapere se vi interesserebbe un video recensione della ios 15 e se vi piacerebbe una recensione di steam deck almeno sapere cosa ne penso di steam deck se questo video vi è piaciuto lasciate like iscrizione se volete supportare ancora il mio canale sulla sezione informazioni del mio canale ci sono offerte tech verrete rindirizzati al mio canale telegram dove pubblico delle offerte amazon se voi le acquistate potrete sostenere il canale vi saluto ancora e arrivederci